Comissario Capo Buongiorno e benvenuto Ciesa, Rosanna, Camerra, Viceprefetto Presidente regionale del Comitato regionale Paralimpico Gruppo sportivo Losimo Tutto bene? Sì Bene Buongiorno Benzareno Martini Liberi Polisportiva, la storia dello sport Associazione Polisportiva Partenope Napoli Grazie Presidente, grazie per averci regalato questo saluto dell'organizzazione che sta preparando le universiadi Siamo contenti di vedervi così numerosi e così con il sorriso sulle labbra Buongiorno, un saluto ovviamente innanzitutto a tutti i centri di riabilitazione a tutte le società sportive, ai tecnici, ai dirigenti principalmente ai tecnici del Comitato Paralimpico che si sono messi a disposizione in questa giornale e rendono possibile la realizzazione di questo appuntamento annuale che è stato immaginato e pensato 15 anni fa ovviamente grazie al CONI, grazie ad Amedeo Salerno che l'ha immaginato 15 anni fa grazie al Presidente attuale del CONI regionale Sergio Roncelli che ha caricato su di sé e sulla giunta regionale questo impegno che è un impegno al servizio della solidarietà, dello sport e della socialità questa manifestazione come diceva Sergio non poteva essere possibile se non ci fosse stato anche il concorso operativo dell'Aro e quindi grazie al Professore Pasquino a nome del Movimento Paralimpico regionale un saluto anche alla sua eminenza il Cardinale Crescenzo Sepe per la sua presenza sempre vicino a queste iniziative solidali e sportive quindi io spero che questa giornata come è nelle intenzioni del CONI e del CIP sia un momento di sensibilizzazione per far capire che anche i ragazzi con disabilità possono svolgere le loro... Il Cardinale Arcivescovo Crescenzo Sepe, grazie Cari amici, è una gioia, una soddisfazione poter stare qui con voi ogni anno cerco di essere presente a questa iniziativa ringrazio gli organizzatori, il CONI, il CSI che riescono a mettervi insieme per una giornata di gioia e di festa non c'è gioia e festa più bella che quello di stare insieme e vivere insieme lo sport io, siccome il sole gocia, voglio dirvi solo una cosa condivido tutto quello che hanno detto queste personalità che hanno delle cose belle io sapete che cosa vi dico? che vi siamo tutti vicini che vi vogliamo bene e che Amoronno va a compagni grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.